Vertenza solsonica avanti piano. È quanto emerso dall'ultimo tavolo istituzionale tra i lavoratori e l'azienda Gala, durante il quale sono stati presentati i nuovi manager aziendali. Luigi D'Antonio della Fiume CGL ha sottolineato il fatto che gli ex dipendenti hanno apprezzato il distacco dal passato creato da Gala, con la nomina del nuovo gruppo dirigente, ma questo non basta per dare segni di speranza ai lavoratori. Quindi in sé questo può essere definito un segnale positivo, il fatto che l'azienda cambia un distacco con il passato e ci siano nuovi manager rispetto alla gestione del futuro. Presentate anche le nuove linee guida dell'azienda e da ottobre sarà nominato un nuovo amministratore delegato a continuato D'Antonio. Rispetto alla cosa però bisogna dire che alla fin fine vanno bene queste cose qui, però quello che vogliamo vedere è la ripartenza dello stabilimento. Sappiamo tutti che lo stabilimento è fermo da molto tempo, quindi servono segnali chiari, e l'abbiamo detto alla proprietà, segnali chiari che indicano la ripartenza dello stabilimento. Siamo in una situazione in cui i lavoratori sono sfiduciati, conclude il sindacalista, perché vedono passare il tempo senza nessuna realizzazione delle promesse fatte da Gala. Gli atti concreti li verificheremo quando ci saranno investimenti e quando lo stabilimento ripartirà. Abbiamo detto inoltre che c'è la necessità di accelerare per un semplice motivo. A marzo scade la mobilità per alcuni lavoratori, non possiamo permettere che rimangano senza ammortizzatore sociale. Poi l'altra cosa che abbiamo sollicitato alla nuova direzione di Gala, abbiamo detto che chiaramente il tutto va bene in piano industriale, va bene in linee di sviluppo, va bene in nuovi manager, però il tutto deve rimanere all'interno del contesto dell'accordo siglato al Ministero dello Sviluppo Economico, che, ricordo a tutti, prevedeva la riassunzione di tutti i lavoratori entro dicembre 2017.